Ciao ragazzi, un grande saluto dai Chaos Game Siamo qui riuniti per commentare questo video Devo dare annunci molto importanti Che Sefirot non si chiama più Sefirot ma si chiama Crystal92 su Xbox Live E ha cambiato il game tag Questo video lo vogliamo dedicare al nostro amico di Roma Che si chiama Andrea E vabbè, cominciamo il video Per mezzo a squadre Ragazzi, vogliamo fare un augurio di un felice anno A tutti i nostri iscritti al canale Non abbiamo voluto mettere video Perché come sapete, Natale, Capodanno Ci scusiamo andiamo per questo Ragazzi, un benvenuto anche a Pitbull 95 Che ci segue Ciao raga E Crystal che Anche io lo è stato molto impegnato in questi giorni Ciao raga Che dire, guardate questo come uno chilo Uso una K47 con lancia e granate Inflessibile Inflessibile Gioco di prestigio e ninja Ehm Credo Ho messo questo video Perché credo che sia molto difficile Prendere i cani su A noi Cioè, questo è un po' di due Un po' di dolore Ecco Pitbull Guardate Ciao per te Qua Già di Si vedete subito Se in zero Faccio subito una bella serie di decisioni Arrivano 11 decisioni 12 decisioni di fila Non mi ricordo bene Qui si cambiano un po' ragazzi Perché Infatti guardiamo le munizioni Ho 18 Proiettili Cerco qualche arma Ma non si trova niente Guardate lo volevo prendere Eccolo preso Non è questo Due munizioni Due munizioni Questa è la tua seconda Adesso muore Pitbull E si prende la canna Sono le Pristole di Bull Adesso muore Pitbull Che è morto Si prende la canna Prende l'arma di Pitbull Fama Il nostro aereo Spiga in modo Ragazzi Mi raccomando Escrivete il nostro manale Perché noi giochiamo E facciamo giocare bene anche voi Dai Ci divertiamo Giuggeteci E' stato con zero munizioni Come ha fatto il nostro amico Come fanno dei nostri amici Ori sei in zero Ori sei in zero Altro Membro Dei caos di aim Guardate questo Non ho arma Ce l'ho di dietro E prendo la sua Che è un Commando Con Mirino E poi entrano Poi prende i cani E arrivo nei cani Ora un coglione Mi kill la pezza di nambo Di merda Guardatelo Per ricaricare Vaffanculo Arrivino i cani Che devastano Non so come mai Ma è la prima volta Che i cani Mi fanno costruendo il ci sono Ragazzi Un grande saluto Anche a Lorenzo XXX Che ci segue Sempre Tutti cani Tutti cani Stanno distruggendo La lista decisioni Solo squallo Guardate questo qua Guardate Boh Ce lo mangio Guardate Siamo qui A un 21 Uno La musica Ragazzi Perché vorrebbe Entrare nel clan Non lo so Potrebbe fare Ogni un provino Ragazzi Stai fuori E' vicina Non malate E' guerra Si ne va di finire Ricordiamo che giriamo su Xbox Che dire Questo video L'ho fatto un po' di tempo fa Guardate Pitbull Sempre per terra Sempre per terra Medico Questo video L'ho fatto Un po' di tempo fa Infatti non mi ricordo Niente come posso commentare Guardate questo Mi passa davanti Non mi vede Niente la macchina Guarda che culo Che culo Che culo Non mi vede Però mi tira Non mi ripeto Che c'è Questa 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 Sto facendo Adesso il 33 2 34 E finisce la partita La mazza Uno E' finita Sembra lui però Allora ragazzi Riasciamo con questo video Abbiamo fatto 352 Su A noi E adesso Cerchiamo di essere più presenti Sul nostro canale Ragazzi Un saluto Ciao Pitbull E Cristal Ciao a tutti ragazzi Ciao Alla prossima Alla prossima Ciao a tutti Alla prossima